Livigno ha ospitato il campionato italiano motoslitte, due giornate di adrenalina e spettacolo. Location dell'evento, la zona di Canton, a Livigno con un tracciato preparato alla perfezione. Ottima come sempre l'organizzazione del motoclub Trella Pass. In gara, nei due giorni di prova, più di 20 piloti al fieri della neve che si sono affrontati per il titolo tricolore. Diversi atleti provenienti anche da Austria e Svizzera, prova di tappa del campionato europeo. Due giornate di spettacolo con il divertimento dei motori. Grazie a tutti.